Io direi un voto insufficiente, poi non so dare un voto puntuale, però un voto insufficiente perché questo periodo del lockdown è stato quello che io ho definito sul sito nicolaporro.it, ho fatto moltissime dirette, ho dato molti contributi, è stato il periodo del giornale unico del virus, cioè tranne rarissime eccezioni che pure ci sono, ma i giornali, compreso il mio, il giornale, Corriere, Repubblica, tutti i grandi giornali sono stati tutti quanti diciamo su una posizione unica, allora io non dico che quella posizione unica sia sbagliata, anzi lo dico, ma penso che quando tu hai il panorama completo dei giornali che non si sono posti neanche un dubbio, per esempio nella criminalizzazione prima di coloro che portavano il cane per strada, poi di coloro che portavano, che correvano, oggi di quelli che prendono lo spritz, insomma il giornale unico del virus ha rappresentato, e questo vale anche per la televisione, dal mio punto di vista ha rappresentato una morte civile dell'informazione, non voglio fare, non voglio essere apocalittico, però insomma avrei preferito un maggior dibattito sul giornale unico del virus. C'è stato un effetto anche terrorizzante, mi ha colpito, guardavo nei giorni scorsi dei video di italiani all'estero, l'avevi visti anche tu, che mostravano una vita abbastanza regolare, normale e qualcuno commentava, qua da noi i mezzi di informazione non hanno fatto il terrore un po' come è successo da noi, è chiaro che da noi le cose sono andate anche in un certo modo, è difficile anche parlare di questi argomenti, però si è un po' esagerato? Sì, si è decisamente esagerato, perché voglio dire l'approccio degli altri paesi è stato diverso rispetto a quello italiano, anche qui non voglio dare un giudizio di valore, ma se ci sono diversi approcci nel mondo e noi ci siamo raccontati sui giornali che l'approccio italiano era quello del modello italiano, insomma io penso che lì non si sia fatto il nostro mestiere di cani da guardia, non solo degli esecutivi, ma cani da guardia nei confronti dell'opinione corrente, cioè erano tutti schierati dallo stesso punto di vista e se erano tutti quanti con questa logica terrorizzante nei confronti del virus, adesso è evidente che il virus è stato una calamità per l'Italia, ma nessuno per esempio si è posto il problema degli effetti collaterali, quelli economici, quelli commerciali, quelli di libertà, quelli psicologici del lockdown, ti faccio un esempio concreto per essere molto pratico, nelle ultime ore si è dato e si è fatto una grande demolizione del modello svedese, si è detto ah quanti morti ci sono in Svezia, è molto più che in Italia, ovviamente non in termini assoluti perché i 3.400 morti loro sono molto inferiori, sono un decimo di quelli nostri, ma anche in termini relativi questa drammatizzazione del modello svedese non è giusto secondo i numeri perché se tu prendi quei numeri e non solo li rapporti alla loro popolazione, 10 milioni di abitanti, ma la durata del contagio, quindi una durata molto più contenuta rispetto alla nostra o anche molto più larga se prendi il nostro dato, hai risultati completamente differenti, ti faccio un esempio, quella famosa battuta di Trump che non è necessariamente uno che debba esserci simpatico del fatto di inientarsi, come ti posso dire, disinfettanti in vena, era una domanda diciamo battutistica che faceva, allora io non so come dirti, temo che su questa vicenda del virus non abbiamo esercitato in pieno il nostro spirito critico.